Che è successo sto fatto? Qui, io entro in una sola condizione. Io continuo, si chiste, se sta zitto, oppure mi metto in tappa. Ancora, ma guarda la tappa, ma te ne hai da sto programma. Basta, chiudete, ho il giudice che è finito, si è riuscito. Basta. Innalizzo, capatore, innalizzo.